Carissimi genitori e studenti, se ancora non conoscete l'Istituto Salesiano San Zeno, abbiamo pensato nel mese di gennaio 2021 una settimana tutta per voi. Nei giorni 11, 12, 13, 14 e 15 gennaio abbiamo pensato di darvi diverse possibilità, di vedere i nostri laboratori, di poter incontrare i nostri studenti o di parlare con i nostri docenti. Andando sul sito openday.sanzeno.org potete registrarvi e scegliere che tipo di attività poter svolgere con noi. In questo modo vogliamo essere più vicini a voi per farvi conoscere in maniera approfondita la nostra scuola.